Il Bando Periferie è un'occasione incredibile soprattutto, mi piace sottolinearlo, per le città medie come la nostra, in cui si è messo in moto un meccanismo davvero di rigenerazione urbana che coinvolge ovviamente il Comune in primo luogo, ma anche gli altri attori della città come l'Università, come gli istituti di cura. È un modo veramente unico e forte per smuovere le risorse. Senza di questo le città rimarranno ferme e inerti ancora per troppi anni.